come stai? tutto a posto? si? si tutto bene domani inizia ufficialmente il vlog va bene ci sto,vlog vabbè ci sto, siamo carichi ore 13 e 18 dai mi avevo dormito bene no? deve esserci l'oppolino giù no non vedo nessuno perfetto che signor dice ah ma io che stai dicendo? eh io che non mi aveva visto e fino a che sto la password dovevi entrare comunque voglio dire nel senso intendo o come capi io per esempio tenevo l'account collegato dell'email quindi quando abbiamo cambiato la password quindi si è disconnesso e ho dovuto mettere la nuova password per connettermi di nuovo un chilo di farina un chilo di farina un chilo di farina un dicilo di zucchero mi fa un pezzi non mi piace amaro dai ma tu eri tutti il macello non mi piace amaro non mi piace amaro ma tu eri tutti il macello sveglioni sono le 13 e 18 ma tu eri tutti i miei sono i miei vicini ma tu eri tutti i miei vicini tutto il posto una cartina dai oh e luca oh Da due diciassette, diciottio e diciannove, che devi fare, eh? Non lo so Niente Vuoi venire su stessa del video se stai libero? Sì Vuoi venire? Vuoi venire? Ciao, ciao, bro Dopo video Yes, sulla web Ragazzi, dai Ragazzi dai cosa, tu un caffè Sei incredibile alle volte, Pino Ma perché non fai il caffè? Tu sei incredibile alle volte, da me Sei incredibile alle volte Oh, è la bella ripresa Sì, ma vuoi il caffè? Ah, cioè E ci aspettiamo un secondo che si raffresce con un secondo Ancendo il PC Vai io, oggi vi mostro come facciamo il caffè in casa Obe Quale? 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 Quale è il vino? Tieni vino Grazie Che stai a fare? Coppolino Caccia scommessa Stiamo cercando di svolta Ripendi la bolletta della svolta Stiamo cercando di svolta Scommetti Sfai ripendi scommetti No no a me scommetti Sì è stasera Non ci voglio non la verità Sì è giusto oggi Come è un caffè Peppino? Buono? Nel caso rimane per tanto Io sono rimasto bloccato Nuovo pezzo in uscita Pino Nuovo pezzo in uscita Label information E tra poco la super pizza Per i Bulls Aspettano gli 80 Oh distintivo Yes Di compleanno a Coppolino Summala per favore Summala fuori Dopo un mese L'emozione del regalo di compleanno Si ingiornano artisticamente questa cosa Io lo do Il corso di Luca Visto che comunque noi facendo cose insieme Cresciamo insieme Siamo partiti tutti quanti da zero E... Dicci di più Luca E Obe è stata la mia salvezza Mi ha dato un'identità Mi ha dato una famiglia Mi ha fatto sentire per la prima volta compreso e accettato Poi si trova Zoom sugli occhi Eccoci tornati in diretta Da Chicago Dopo il blackout Si ritorna a gara 1 In diretta Chicago non va Meno 8 Due minuti dalla fine Meno 7 Meno 7 Meno 9 Meno 9 Meno 9 Ho ancora accanto Non내 l'emozione Sì Sì. Ulfane, io cattino. Sì, sì. Solo un giugno. Non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo Non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo Non lo vedo, non lo vedo